Bentornati a Dolce in Paradiso, ormai siamo in piena atmosfera natalizia e proprio in questo momento sto preparando il pane per domani che è la Vigilia dell'Immacolata. Noi in Puglia, soprattutto in alcuni paesi, usiamo consumare proprio nel giorno della Vigilia dell'Immacolata nessuna pietanza a base di carne, ma il pane in genere condito con dei contorni oppure con del tonno o comunque del pesce. Per questa Vigilia dell'Immacolata sto preparando in particolar modo delle ciapatte, non le solite bucce perché ogni anno cerco di preparare un tipo di pane diverso, mi piace proprio preparare il pane durante le feste, poi quello che mi avanza lo congelo e quindi lo tengo sempre pronto all'occorrenza. E ho deciso quest'anno per le ciabatte che è un pane che adoro perché è un pane sottile e schiacciato. Quindi volevo preannunciarvi insomma che vedremo appunto la ricetta di come fare le ciabatte e poi nei prossimi video cercherò di proporvi un menù a base di pesce per la Vigilia dell'Immacolata, per la Vigilia di Natale scusate, e un menù invece a base di carne proprio per il giorno di Natale. Quindi andiamo a vedere come preparare le ciabatte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.